L'arbitro ha voluto un attimo temporaneamente sospendere la partita dicendo che volavano getti monetine verso il guardaline. Ha deciso di... ha detto monetine, non so io sono andato a vedere sinceramente ho vista una monetina da 50 centesimi, non pensavo che era da fare tutto sto scalpore però così ha deciso lui ci siamo fermati un attimo, ha voluto che qualcuno andasse a fare un comunicato da annunciare dalla sala stampa con gli autoparlanti ha detto di far calmare questa situazione altrimenti non avrebbe fatto ricominciare la partita abbiamo cercato di tranquillizzare un po' la situazione parlandoci poi ha fatto ricominciare il gioco insomma siamo fatti fermi qualche minuto e adesso non mi sono reso conto quanto, 7-8 minuti, 4 minuti ha fatto due fischi per fermarla temporaneamente poi insomma abbiamo tranquillizzato un po' la cosa anche il guardaline sembrava insomma che non era così grave la situazione io sono andato a vedere, ho parlato anche un attimo con i tifosi nostri ci hanno detto anche loro non abbiamo tirato niente poi se come sappiamo ci sono dei campi insomma che sappiamo bene che non è che vola solo le monetine, molto peggio però io da quanto ho visto mi è sembrato c'è stata una monetina non sembrava così grave la situazione poi così ha voluto prendere questa decisione lui e ci siamo fermati di sospendere temporaneamente ma non avete mai avuto la sensazione che potessi interrompere definitivamente la partita? sicuramente lui l'ha detta questa cosa perché ha detto se non si calma questa situazione, se continuano a volare oggetti così ha detto lui che io personalmente non ho visto niente nemmeno altri e ha detto avrebbe sospeso definitivamente la partita poi insomma parlandoci si è tranquillizzata la situazione evitando insomma di creare anche dei precedenti importanti che penso che sia stato troppo grave sarebbe stato troppo grave sospendere una partita per motivi adesso non ti dico non penso nessuno ha pensato chissà che cosa era successo anzi decisamente niente di così importante comunque la partita è finita regolarmente la partita è finita regolarmente il risultato è omologato penso ci siamo anche meritati alla fine c'è stata anche la situazione sul gol di Puglia che ha fermato il gioco molto la situazione era davvero dubbia insomma era più abbiamo rivisto la situazione su un video sembrava regolare poi adesso forse dalla televisione si vede meglio comunque potevamo chiuderla anche con quella situazione anche più rotonda se il gol fosse stato vai sì sicuramente anche perché giocava una partita come ben sapete decisamente importante con l'Ancona speriamo che non succeda nulla di grave che si possa giocare una partita regolare soprattutto davanti ai nostri tifosi vediamo insomma quello che scriverà l'arbitro sul referto che non ci aggravi ulteriormente le situazioni anche perché i tifosi sono un aspetto importante per la SAM per la SAM sono un aspetto determinante specialmente in casa che come ben sapete sono la nostra marcia in più poi in un periodo così che sta andando bene sono dalla nostra parte sono venuti numerosi anche qua a Celano e quindi ben venga che si continui a giocare una partita davanti ai nostri tifosi e tutte le altre per noi è un aspetto importantissimo è un gol su calcio piazzato? un gol su calcio piazzato è vero purtroppo è un piccolo deficit non tanto perché comunque è importante sicuramente dobbiamo migliorarci stare più attenti sicuramente non abbiamo una squadra molto fisica anche sulle marcature così però dobbiamo sicuramente far forza su noi stesi che ci andiamo in campo che questa situazione sulle marcature bisogna migliorarle sicuramente c'è stata una spizzata davanti sul primo palo che non ho visto sinceramente no non credo Lazzarini perché ce l'avevo io in marcatura e ce l'avevo in mezzo alla porta quindi non era Lazzarini vittoria pesante ottenuta con grande determinazione si è creduto fino alla fine sì noi ci abbiamo creduto dall'inizio alla fine a maggior ragione dopo il pareggio volevamo portare a casa il risultato pieno ci abbiamo creduto era un campo difficile un terreno molto pesante che comunque a noi ci ha condizionato è un campo molto difficile comunque è una squadra molto combattiva la loro che non ci stavano sicuramente a perdere e a fare figuracce contro la San Benedettese noi ci siamo rimboccati le mani che dopo il pareggio e abbiamo voluto tutti i costi riuscire a vincerla non è stato facile poter tornare con il risultato pieno ma così è stato insomma penso che da parte nostra la voglia e tutto per poterla vincere si è vista in quel momento penso ce l'abbia avuto Siva però a prescindere da questo dobbiamo migliorarci tutti a prescindere da chi era grazie a tutti